Ciao! Video sui regali che ho ricevuto per il mio compleanno. Ho fatto 30 anni lo scorso 19 febbraio. Sono arrivati. Comunque non succede niente. È solo un numero. Capito? Che vi volevo dire? Ah, sì. Insomma, video regali. Inizio con questa tazza che mi barra C è stata regalata da Alessandra, sempre lei dotta da Around, con 50R soprattutto. Questa è la marca, lisaangel.co.uk. Contentissima. Prima cosa perché la, vabbè, con le iniziali sto un po' in fissa. A casa, tra l'altro, siamo tutti con la Angela, Alex, Aurea. E può andare sia alla vastoviglia che al microonde. Favoloso perché una tazza, una volta che l'hanno regalata da Alex, invece si è perso tutto quanto la scritta e i disegni. Terribile. Comunque questa bellissima tazza. Poi passiamo... Ah, non vi faccio vedere. Un pigiama e dei cazzini di Garfield che sono stati... Ce l'ha regalata... Me li hanno regalati... Me li hanno regalati una... Delle amiche. Sono stati presi da Woman's Secret. Woman's Secret è tipo Victoria's Secret e Oiscio tutto ammischiato. Eh? Una cosa... Una marca spagnola. Oltre a quello, mi hanno preso questa qui. Nella Nudimat di questa marca. Ecco, togliamo questo. La marca è questa qui sotto. Si vede. Viva la diva. Si legge? Marca presente da Primor. Loro sapevano, soprattutto una di queste... Come mi è malata di Aliexpress, sapeva che volevo provare la Naked, la Basics. Non sapevo mai se la 1 o la 2. Non mi andava a dispendere... Visto che non lavoro, non ci volevo spendere questi 30 euro che ti chiedono per non essere sicura e poi magari dover rivenderla o rivenderla male. È sporca. Ah, è la frutta di Aurea questa. Bene. Ehm... Sapeva che volevo... Era addirittura tentata di prenderla su Aliexpress, perché ho detto beh, per provarla, eh. Ehm... Niente. Alla fine, questa qui che è identica alla Naked Basics 1. Ho già usato Tender e Tempting. Con sotto il Primer Potion, quello Grid, quello dorato. Tutto il giorno mi hanno retto. Sì, è favolosa. Ehm... Marca svedese. Fatta in Cina. Comunque. Quindi... Questi rumori... È Aurea che sta giocando, eh. Si trova da Primor. Per chi... Voi, insomma, venite a turisteggiare normalmente andate per il centro. Quindi vi dico dove trovare Primor. Lo trovate. Alla fine della Rambla, quando dovete passare il ponte sovra al mare, che c'è il centro commerciale Mare Magnum. Lì c'è un Primor. E poi ne hanno aperto uno, proprio in pieno centro, bello grande, bello fornito, che è praticamente la strada Ecaie Pelaglio. Ecaie Pelaglio è quella strada che unisce Piazza Università a Piazza Catalunia. Diciamo che si vede un po' così. La Piazza Università a Piazza Catalunia. Questa è Piazza Catalunia. Questa strada qui è dove c'è l'entrata laterale di Sephora. C'è Storize. Starbucks che fa angolo. Qui super giù c'è questo Primor. Per farvi capire, Piazza Catalunia. Il McDonald's di Piazza Catalunia sta qui. Sullo stesso lato, se andate più avanti, insomma, verso... Dando le spalle a Piazza Catalunia, trovate questo Primor gigantesco. Ok? Poi, passiamo avanti. Mia cognata ha regalato questi orecchini, che qua si vedono molto blu, ma in realtà hanno un tocco di verde in più dentro, di Colors & Beauty. E poi questo veniva qui dentro, nella sua scatolina, di Anika. Anika è una marca napoletana. Anika Cosmetics SRL Napoli. Anika Makeup.it Questo è l'ombretto cotto. Ombretto occhi c'è scritto, non c'è scritto cotto. Comunque, il numero 20. Che è questo, sempre sul celeste. Così perché io dal celeste al verde sono dei colori che mi piacciono da morire. È gigantesco, ragazzi. Sono 5 grammi. Cioè, proprio, è enorme. È enorme. 5 grammi. Si può usare sia asciutto che bagnato. Comunque, insomma, è un bel colorotto che a me piace assai. Io avevo uno così, cioè, lo stesso colore della Deborah, ma quando tipo stavo al liceo. Quando stavo al liceo stiamo parlando di metà della vita mia. Quindi 15 anni fa è usatissimo. Cioè, quello c'aveva proprio il buco. Cioè, ero arrivata proprio giù in fondo, in fondo, in fondo. E quindi sono stata contenta di aver ritrovato il colore, diciamo. Poi, una cugina mi ha regalato i miei primi prodotti Nabla. Allora, c'è Chattermark, giusto? Sì, Chattermark. Ombretto, ancora non l'ho provato. Questo qui. E poi... Salute, amore! Eh, abbiamo un po' di raffreddorino, eh. Diva Crime, il mio primo Diva Crime Across the Universe. Cioè, questi rossetti sono pucciosissimi, è bellissimo. Già l'avrete sentito in ogni dove, perché tanto, da quando sono usciti, che la maggior parte di voi l'aveva comprati, sicuramente. 4,2 grammi. Questo è il colore. Sì, si vede abbastanza bene. Ma io quasi quasi i video li faccio col telefono, che mi fa in HD. Comunque, questo qui. Ancora non ho provato nulla, ma già mi ha detto, guarda, se ti trovi bene, alla fine, perché, tra l'altro, vi vicino a me, a Roma. Quindi, ho detto, quando metto un'espedizione a un euro, facciamo man bassa. Poi, sempre restando in tema Roma, siamo andati, una mattina siamo andati a fare un giretto, dovevamo vedere dei negozi con Alex e mia madre, lì sulla Tuscolana. E, praticamente, siamo capiti... Alex mi ha fatto entrare in questo negozio, io non ci volevo entrare, e alla fine ho peccato. Ho peccato, ma, cioè, Alex ha scelto due cose. Io ne ho scelta una, e alla fine ha pagato mamma, sa, un regalo di mamma. Come vedete qui, c'è sia a Frosinone che a Roma. Via Tuscolana 1368, per farvi capire, sta tra le stazioni della metro A, Giulia Agricola e Subagusta. Ora, se scendete a Subagusta, diciamo che sta dal lato marciapiede di Meopinelli, per chi conosce la zona. Per chi non conosce la zona, sta dal lato, se scendete a Giulia Agricola, per esempio, sta dal lato marciapiede Berska e Tiger. Sta proprio dalla parte di Tiger e continuate verso Subagusta, insomma. Cioè, sto nevozietto. Dunque, abbiamo preso... Alex ha scelto i colori degli smalti. Strano, ma vero, ha detto, te li voglio prendere. Ti voglio far prendere degli smalti. Numero L'Oreal 624 843. Questo è un celeste con, vedete, i riflessi. È abbastanza coprente, per adesso l'ho provato solo su foglio, però, su carta, però vediamo. E poi, questo qui, che è quello che ho su, che, ecco, ieri mi ha saltato, lo devo togliere, è white gold. Questo ha un effetto un po' tipo sabbiato, poi, però, è molto più... cioè, con l'uso si alliscia. Io non ci ho messo il top coat, eh. È fantastico, raga, fantastico. Poi, quello che ho scelto io è stato questo rossetto di Deborah. Allora, io questo l'ho preso dopo aver visto il video di Marta, Sweet Beauty 1990, favoloso. Cioè, ho visto la sua prova su strada e ne sono rimasta colpitissima. Quindi, quando sono andata lì a provare, cioè, quando sono entrata e l'ho vista, ho provato un po' di colori. Non sapevo e, alla fine, mamma mi ha convinto, diceva, prenditene uno dello regalo, dello regalo. L'ho preso questo, il numero 11, che, se vedete bene, non è un rosso qualsiasi, ma, aspettate, perché io sto appoggiata su un bicchiere. Vedete, ha tipo delle particelle luminescenti, così. Cioè, dura tantississimissimo. L'ho preso apposta per questo. Poi, avete visto il piccolo video, il breve video in cui vi faccio, insomma, tipo l'allerto sui colori. Gerard Cosmetics è un autoregalo che mi sono fatta, perché, appunto, ho trovato l'offerta, erano arrivati non so quanti mila seguitori su Instagram, ma ne ho messo il codice per il 50%. Ho preso il rossetto liquido Cher, lo rossetto normale, famosissimo, 1995, è un matte, e il rossetto normale Sangria, che, se non sbaglio, è un saten. Vi faccio vedere i colori, aspettate un attimo che li apro. Guardate, ho appena visto che ho aperto del tutto Sangria e c'è questa spruzzata di glitter qui. Boh, vabbè. Comunque, li ho aperti tutti, facciamo vedere. Sangria. È un bel colore. Io non l'avrei chiamato Sangria, perché la Sangria non c'è il suo colore, però, comunque. Poi, 1995. Cioè, è uno di questi marroncini che stanno tornando di moda adesso. E poi c'è Cher, che io questo ancora non l'ho provato, regà. È in tonso. Speriamo che mi sia bene. È un rosa antico malva scuro. Visto che ci sono, provo anche questo. Questo è bellissimo. Non se ne andrà mai, quindi adesso metto un attimo pause. Cioè, proprio no, no, eh. E, eh... Lo pulisco subito. Per farvi capire il colore. Comunque, è più intenso, no? In realtà. Ecco qua. Poi, questi mo' vediamo di non sozzare tutto. Ehm... Altro autoregalo che è arrivato giusto giusto ieri, signori miei, abbiamo i miei prodotti, i miei primi prodotti Lime Crime. Pumpkin, tutti i velveteen. Pumpkin, Beatty, Terriot. Pumpkin era... È in saldo. Beatty, Terriot, no. Ho approfittato del 14, che è del San Valentino, che c'erano le spedizioni gratis, anche le internazionali, e quindi le ho presi. Non so che mi stia succedendo, sto andando in fissa con i costi aranciati, perché non lo so, ma è bellissimo, Pumpkin. Adesso li sbocciamo tutti. Vediamo. Perché qua... Cioè, vabbè. Voi siete messi? Madonna, è stupendo e mi starà di merda, sicuramente. Scusate la parolaccia, ma... Vabbè, mi è uscita. La bimba ancora non capisce, spero. Beat it! Bello come colore. E poi... Riot. Speriamo mi sia bene, storiotto. Tutte ne parlano benissimo. Oh, che bello! Ecco, iniziamo a zozzarci tutte quante. Si devono ancora asciugare. Abbiamo il sottofondo musicale di Aurea. Comunque, le ultime due cosine sono state regate da Alex. Diciamo che questi sono i regali non ufficiali. Un official regalos. Kit preso da Sephora, 15,60 euro viene. Black Magic, c'è il rossetto e l'eyeliner in piccolo. Eccoli qua, il rossetto e eyeliner. Questo l'avete visto già nel video haul. Per farvi capire, il rossetto è un po' più piccolo dei Nabla. Poco più piccolo. Però, dentro c'è un... Sì, un chilo. Un... Oddio, non mesce la parola! Un gramma e virgola due. Magic, che qua dietro lo chiamano... Un color nude rosato brillante. È nude rosato, ma è brillante perché dentro ci stanno proprio i glitter. È un bel colore, mi piace assai. Però ci sono i glitter. Cioè, io li vedo occhio nudo, quindi... È brillante per forza di cose, insomma. E poi c'è l'eyeliner Trooper. Sempre in piccolo. Ed infine, Mother Mother. Sempre di Kat. 19,90 questo viene da Sephora. Questo già l'ho usato. Ed è favoloso. Modesta a parte, questo colore mi sta benissimo. E se vi interessa questo colore, sappiate che Dolce Apart di Jeffree Star è uguale. E molto similissimo, moltissississimo, è Polly, sempre si chiama Polly, mi pare che sì, della Lime Crime. Ecco qua, questo è Mother. Mother. E questo è... Vedete? Ci stanno proprio i brillini. Questi in tanti si sono asciugati. Non del tutto. Ancora, Pumpkin è stupendo, ma mi sarà malissimo, già lo so. Ed ecco qua. Questi sono i regali del compleanno. Ricevuti, quelli che mi sono fatta. E niente. Questo è tutto. Ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ah, ditemi, ditemi se, magari se voi avete questi prodotti, ditemi se con questa, con la fotocamera, con questa qui, sono veridieri gli swatch. E se, insomma, se si vedono bene. Ok, grazie. Ciao, ciao.